Siamo ritrovati in occasione della visita dei nostri paesani, compaesani di Badolato. Io a nome della regina a calcio di Vetsicon, di Beresville, vi do il benvenuto, me lo avevo già detto stamattina, ve lo rinnovo a tutti. Veramente un coloroso benvenuto a tutti e che potete trascorrere le giorni terreni, tranquilli, di divertimento con i bambini, con le famiglie e rincontrare un po' anche la comunità qua a Vetsicon che siamo qua. Poi qui c'è un consigliere nostro, Fabiano, c'è il nostro segretario di là e il nostro delegato, l'amministratore delegato. Io sono il presidente, ne mancano del comitato, però saranno domani con noi, dopodomani, anche fa parte del gruppo. Da parte nostra veramente ben arrivati, delle buone vacanze qua, diciamo tre giorni felici con noi. Salute a tutti, poi dico, fate veramente quello che chiedete, quello che si può fare lo facciamo, anche nei ristoranti dove si va, non dobbiamo essere come delle mummie. Dico, liberi, tranquilli, siamo a casa nostra, siete anche voi a casa, per cui penso che l'ospitalità nostra sarà come se siamo veramente, ci conosciamo quasi tutti, ci siamo cresciuti insieme. È come veramente rincontrarci e stare veramente in famiglia, ok? Una buona serata e poi vediamo come va la serata. Grazie.